Il mancato rispetto dell'ordinanza emanata dal sindaco di Pesaro a Ferragosto dove vietava balli, obbligo della mascherina e di vieto di assembramento non rispettata da alcuni gestori di spiagge creando inevitabilmente la calca e a seguito del post scritto dal sindaco sui social dove richiamava l'attenzione di giovani e gestori di locali alla responsabilità il primo cittadino è intervenuto nuovamente a questo proposito. Il giorno di Ferragosto dal punto di vista della sicurezza del covid non è andato come doveva andare perché alcuni bagnini hanno fatto feste che non potevano fare, li avevamo avvisati, era vietato il ballo, vietato le aggregazioni, si poteva fare soltanto musica con persone sedute e distanziate come durante tutto l'anno, come abbiamo fatto durante la notte delle candele e invece sono andati avanti uguali, quindi mi sono arrabbiato molto perché hanno tradito la nostra fiducia. Sulla mancata inosservanza dell'ordinanza in atto per la giornata del 15 agosto scorso il sindaco aveva richiamato all'attenzione anche le forze dell'ordine dove chiedeva al comandante della polizia municipale un'informazione scritta sui motivi per cui gli organi deputati e la vigilanza non avevano garantito l'osservanza delle prescrizioni contenute. I sindacati CGL, CISL, Funzione Pubblica, Will e SILP, Sindacato Italiano Lavoratori Polizia, a firma congiunta attraverso un comunicato sono tornati sull'argomento esprimendo il proprio dissenso nei confronti del sindaco di scaricare la responsabilità sulle forze di polizia. I firmatari sostengono che la responsabilità è soltanto politica di quanto accaduto in diversi locali al mare dove si sono create assembramenti, feste e balli. Non ha nessun senso vietare con ordinanza ciò che è già vietato, ovvero balli e feste in spiaggia e concedere la musica pensando che i giovani stiano seduti ad ascoltare. I sindacati sottolineano che le dichiarazioni del sindaco che cercano la responsabilità sono discutibili, nonostante da anni lamentano carenze di organico dopo l'accorpamento dell'Unione dei Comuni dove gli agenti sono costretti a svolgere servizio in un territorio molto più vasto con gli stessi numeri di personale che una volta presidiavano solo il Comune di Pesaro. Mi è sembrato un attacco esagerato anche perché io ho sempre difeso, ho sostenuto, valorizzato il lavoro delle forze dell'ordine. In questa circostanza i controlli non hanno funzionato. Devo capire di chi è la responsabilità. È responsabilità della municipale, me la prendo con la municipale è responsabilità di qualcun altro, ce la prendiamo con chi non ha fatto i controlli che dovevano fare. Quindi grande fiducia e grande stima nei confronti di tutte le forze dell'ordine ma è anche mio compito da sindaco capire perché quel giorno, il 15 agosto, le cose non hanno funzionato. Per quanto riguarda le sanzioni delle attività e la richiesta di chiusura dei locali, il sindaco risponde così. Io ho chiesto pene esemplari da questo punto di vista. La mia opinione è che un paio di giorni di chiusura sarebbero necessari. Aspetto nella relazione che mi deve fare il Comandante dei Vigili anche la decisione su questo punto perché non può aspettare a me ma deve aspettare a coloro che hanno fatto il verbale di contestazione.